h double face ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di omori dove penso che sarà un episodio pieno di ma pieno ragazzi come non avete idea di grinding anche perché io non mi ricordo anzi qualcuno mi dà una mano a che livello ero arrivato qua nella mia scorsa run qua mi ricordo non si poteva andare e mi dà fastidio perché sembra veramente figo quello c'è dall'altra parte mi ricorda quasi un'ambientazione di shim megamitense 4 però non so se ci si può andare forse no per favore evita le mie spine a tutti i costi grazie va bene ah mi blocco a te perfetto io con queste non ci starei a parlare tanto questa è la gang del bosco tanto tienilo a mente quando dirò ci dovrei andare sarà importante ah dici la fine dell'aegui boia sì che ti sto a sentire quando me lo dici è da quando ho cominciato cioè da quando l'ho visto per la prima volta ci voglio andare lì che mi dà un mix di feelings tra shim megamitensei e spongebob perché c'era quell'episodio dove spongebob finisce in fondo al al burrone e non riesce più a tornare a casa non mi ricordo esattamente e tipo ci sono tutte le gag dove ogni volta che lui si allontana dalla fermata dell'autobus arriva l'autobus tipo mi ricordo quella scena in cui prende la barretta e cioè mette i soldi per prendere la barretta dalla macchinetta che palle però che sei prende i soldi per mette i soldi nella macchinetta per prendere la barretta di cioccolato tipo in quei tre secondi in cui si mette a prendere la barretta arrivano tutti autobus della vita e lui ovviamente li manca e poi a un certo punto tipo c'è c'è lui che fa per prendere la barretta come se la schiacciasse come fosse un acceleratore c'è l'autobus che si muove contemporaneamente cioè che fa gli stessi suoni come se stesse effettivamente oriente l'acceleratore fantastico il video di Isaac sai perché ero andato per coprire spawn kill ebbene si capri feroce te che dici mi rompo le poglioni fin da fin da fin dalla gridier infatti c'ho una caga di fare la gridier nel secondo save file perché mi rovinerebbe la win streak però prima o poi andrà andrà fatta la gridier proprio non mi piace come è bilanciata ma è possibile che io faccia così poco male quanto cazzo sono resistente ah ma perché ti nascondi nell'oscella uno va bene conviene tenerli per ultimi quelli ho capito forse li devo intrestire perché vabbè si vede siano così toshti questi bastardi si ho visto anch'io che hanno annunciato peper mario 64 ma non gli do 60 euro per giocarci cioè quello piuttosto lo emulo o mi rifanno peper mario fisico a quel punto gli soldi rispendo perché che poi la nintendo switch muoia oppure no io ho la propria fisica quindi ci posso giocare in quel caso lo compro tutta la vita ma se devo pagare un servizio online no mi dispiace ma voglio stare più lontano possibile da quelli stab e va run and gun cook zero due dai ma ragazzi c'è una tecnica per fargli più male possibile a questi acquari oppure sono proprio bastardi e basta dai ma non ha senso il che le pensi dice champion ma chi monachina che ti spawnano sopra ingridia eh eh vabbè penso di averti già risposto fondamentalmente ma l'ho sempre detto sono uno dei veramente dei problemi più più pesanti che affliggono isaac ora come ora nemmeno di finita si sta sentendo stai andando a manetta a cosa bella immagino eh nemmeno a me piace la gridier la grid è figa è tanto figa la gridier proprio no ma potrebbe diventarlo tranquillamente ma devono proprio rivedere l'idea secondo me perché semplicemente darti meno soldi e far spawnare gli amici tutti insieme non ha senso hanno fatto veramente un puttanaio con afterbirth plus e meno male c'è stato killborn che ci ha messo qualche pezza con repentance e chi ha in mente anche di metterne perfino di più la gridier contenta è jack no damage no object no non penso che sono bello un po' di dicembre meno 22 giorni di natale poi è vero c'è anche natale io mi scorderò di queste cose non ho visto quanti punti di esperienza ho guadagnato mi scorderò di queste cose perché c'è proprio da pensare agli esami mi sono fatto un programma per questo fine settimana di studio spero di riuscire a rispettarlo prendere l'apento no non ce l'ho perché sennò perderei gli effetti della dieta penso se fossi a casa dei miei nonni probabilmente mia nonna me l'avrebbe comprato ma sono qua a milano quindi sono salvo tra virgolette quest'anno live di isaac è successa una super coincidenza in pratica sto iniziando la mia dieta e ho comprato carote coincidenze non credo no in questo caso mi sa che invece è coincidenza ho visto la foto ufficiale di hero la maia di la maglietta kiss my cook davvero non l'ho vista no kiss my cook non mi dovrebbe far ridere così tanto sta cosa ti prego mandamela sansra voglio vedere un muore un muorebile troppo non posso sempre perché ho due fratelli e un solo bagno minchia dovete organizzarvi e fare attorno c'è il calendario dell'avvento del mech no ragazzi dai se proprio dovete prendere un calendario dell'avvento prendete uno un artigianale cazzo ne so non prendete quello del mech mi prego no anche il calendario dell'avvento per esempio va bene non sarà artigianale però sicuramente c'è più amore di uno del mech da ragazzi io mi ricordo che c'era un healing point qua in giro forse era questo si con il nostro no ma non è no non mi cura ah vabbè tanto c'è si 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 ok tanto c'è Mary il calendario dell'avvento sono un must eh ho capito non ci posso fare nulla sans mi ha mandato immagino esatto aspetta che la guardo subito per curarmi questo no sbagliato tutto ciò che costa il tuo ma a parte che sono bellissimi giornati così kiss my cookie ragazzi tra l'altro bellissimo guardate fantastico veramente carini ah giusto perché c'è il Thanksgiving a me perché io sono nato il 26 novembre no? quindi ogni anno il Thanksgiving mi cade praticamente nel giorno mio compleanno siccome abbiamo anche degli amici americani che ogni tanto vengono a Firenze dall'America proprio a volte è successo di festeggiare il giorno dell'ingraziamento insieme al mio compleanno a casa nostra anche io un bagno con due fratelli un padre una madre un cane vabbè cane quando devo andare in bagno un bimbo come me è fatta le ha un casino kiss the cook che era di ampie vedute non sono respawnati nemici vero invece mi sa proprio di sì sì sono respawnati non riuscirò mai a completare questa sezione di questo passo ma aspetta ho veramente bisogno di grindare qua? secondo me no allora sicuramente posso evitare le conchie del cavolo che non c'ha una difesa e non c'ha senso ecco te invece ti posso beccare che in teoria non sei troppo spaventoso se parli come Hiro a Mary dice una cosa tipo cook me comunque la faccio a me dopo devo provarci cazzo no puoi farlo più avanti cosa aspetta che livello sei di non si rivelare un botto? eh infatti ma sono penso a livello 25 più o meno vediamo 26 eh infatti ditemi voi ragazzi che livello mi conviene arrivare io immagino 30 prima di arrivare nella balena però cioè i nemici conchiglia qua non pensano valga la pena ecco questo invece magari sì no ho più paura quello incazzato 3d mi sembra ragionevole vai è tipo Superstar Saga l'ammatonna che a livello 40 c'è il boss finale mi fa veramente strano pensare che il boss finale di Omori sia Humphrey cioè no in realtà è Omori però insomma a livello finale è livello proprio di RPG perché arrivi da lui e sei a livello 40 arrivi da lui e sei a livello 40 mi ha disegnato che temo sia una cosa figa e sono ah stasera ragazzi ci divertiamo vediamo se riesco a fare perché no non voglio far cook ammazzatelo prima che faccia cook perché sennò spreco punti non guarire una persona che è già guarita per favore vuoi morire niente se l'ha mangiato da solo sto ma stardo ogni donna va a essere a cui piace l'organo produttivo maschile sarebbe trovarsi davanti a te ma do you kiss my cook ma senza no beh però non è scritto corretto no ma non penso a cosa bello ho già intenzione di parlare ma che cazzo sta facendo questo è spastico dai vieni qui ho intenzione di parlare del soprannome e comincerò con i miei però scrivo un messaggio su tutti i miei soprannome in noti addirittura vediamo il Samocus buona ragazzi in questo periodo mi sto dopo tanti anni recuperando kill a kill che figata di anime cioè ogni episodio cazzo è una è una godura incredibile per le animazioni per la colonna sonora per quanto su un cazzo di personaggio è stupendo non so cosa mi abbia detto e non mi interessa tra l'altro quanto è piccolo il mondo perché l'altro giorno mi sono fermato dopo lezione con alcuni amici a chiacchiera e sono arrivati altri amici dei miei amici e a un certo punto uno ha tirato fuori l'argomento no ho visto questo video e ve lo faccio vedere che si chiama se gli anime avessero un trailer un trailer cioè proprio gli anime come concetto ho fatto vedere questo trailer in cui c'erano tutte le cose tutta amarre che potete vedere negli anime e uno ha fatto però non c'è un grande problema non c'è nessuna scena di Gurenla Gun ragazzi anime che dovete suonare dovete vedere se non l'avete visto perché è stupendo penso di poter serenamente dire che è il mio anime preferito di sempre e sarà in skills si e quindi niente abbiamo cominciato a parlare di quello e poi anche di Kill la Kill anche se vi ho detto aspetta perché sono a metà metà serie dai vieni qui sono a metà serie però insomma quanto è piccolo il mondo perché comincio a guardare una serie della Trigger e giorno dopo praticamente trovo gente con cui parlare della Trigger fantastico Allora Arcane me lo stanno consigliando in tanti non so se lo vedrò perché l'idea riguardare una roba ispirata da un gioco che sinceramente non mi frega nulla come League of Legends non lo so mi fa un po' desistere perché mi da l'idea che questi non mi vogliono vendere una storia ma mi vogliono vendere un buon prodotto per carità ma che fa da pubblicità un gioco e a me questo non piace vedrò c'ho da recuperare per ora il film della vedova nera ora è uscito Occhio di Falco poi c'ho Shang-Chi e i sette no i dieci anelli quella roba lì anche se mi sono ripromesso di vederlo a mio babbo a Natale cioè meglio lui l'ha promesso a me però mi ha detto non so se ci la faccio a resistere e allora che cazzo devo farci e vediamo cambio il mio nome nel time and dicevo su me no lascia cosa bella ti prego non mi fare come Juggernaut che cambia nome ogni più spesso dei suoi calzini che poi non lo riconosco guarda Jojo eh Jojo Jojo prima o poi lo vedrò ragazzi prima o poi lo vedrò arriverà anche il giorno in cui comincerò a Jojo nel Lord non ne ho mai accettato nulla ma la serie è davvero bellissima anche se non giochi al Lord non ti interessa giocarci ci penserò e quindi Juggernaut è insieme a me continua a vivere no e vabbè si vede che non ha tempo di stare in live ma ragazzi cioè Peter allora è in mod a parte cosa bello ma non è praticamente mai in live quindi ognuno fa come gli fare cioè dipende anche dal tempo che c'ha io sono una persona che guarda pochissime live per esempio io guardo soprattutto le registrazioni e le differite quindi va bene così e questi sono i best mod esatto poi quando avrei imparato anche a usare qualche comando saremo a posto la cosa è essenziale il manga e l'anime tocca allora il manga mi sa che sarà difficile perché penso sia difficile recuperarlo poi io sono una persona che fa tutto o niente cioè se comincio jojo l'anime decido che mi piace e voglio prendere il manga e devo prenderli tutti a quel punto spendo mille euro e ciao ci voglio e non posso perché devo spendere su fangame anche perché che cazzo ma cioè io volevo comprare il poster di Queen cioè di Questero 2 e ti dicono eh no se lo compri non puoi comprare altre cose che non siano poster ma che cazzata è? non l'avete mai fatta una puttata del genere io voglio comprare quello io voglio comprare il poster e tutta un'altra serie di cose che ora sono sold out ma insomma correranno quindi niente se lo comincio penso guarderò l'anime punto e stop si anche il tappetino è figata cazzo grazie di dirmi che sono l'eccezione a non guardare le live grazie non so se è uscita bene come l'ho detta cioè apprezzo il fatto che tu mi dica che non guardi live ma le mie si queste vediamo se rendiamo una migliere ehm Slava dice i miei compagni mi hanno soprannominato il meme questo perchè dico e faccio cose e loro non si danno meme esempio l'educazione fisica stavano andando al parco al parco? la mia compagna portava il registro io la scatola dei telefoni una mia compagna mi minaccia se li faccio cadere io non ti preoccupare tanto vado a vendere il negozio di vicino sono un meme per cose simili perfetto una volta mi distraggo premo sempre il pull le parentesi angolate anziché la x non mi ricordo se qua c'era qualcosa di particolare oppure no le sketch page della settimana non sono come una challenge per me così mi alleno e mi diverto ma stasera mi stai riempiendo di coccole aiuto ma anche l'anime è fatto bene però se chiusi questa bellina è sta ma anche l'anime è fatto bene però se la parte 1 sono 9 episodi non ti attacca non smettere perché già la parte 2 diventa una cosa incredibile se poi neanche quella ti piace amen di solito non sono uno che finisce a metà cioè che tronca a metà stagione una qualunque cosa può darsi al massimo che veda tutta la prima serie di che non mi piace però difficile perché da come ne ho sentito parlare penso che sia un prodotto che possa incontrare i miei gusti semplicemente dipende solo da quando vorrò cominciarla intanto ho capito che come tutti gli esseri umani le cose hanno il loro tempo diamo tempo al tempo laddove si può laddove non si può tipo gli esami e mettiamoci d'impegno e facciamoli allora qua più o meno gli nemici fattibili penso di averli affrontati tutti ora c'è ecco qua volevo andare bravo no ci sono ancora e che palle allora la host number di umori no sans no ma mica stanno morendo tutti malissimo aspetta un attimo ma qua ci sono gli stessi amici di prima speravo qualcosa di meglio andiamo da meri a curarci caro 90 anni perfect forse le mucche andiamo a vedere quanto ci danno le mucche Giojo è molto fedele al manga infatti nelle scene aspetta eh nelle scene Giojo pose ci sono dei fermi immagini che credo siano usati per rimurare l'effetto del manga bellissimo Giovo esercitarmi in pose dinamiche quindi renderò chiunque più figo senza volerlo daiee beh quando puoi li ascoltai la host e nascondi una cosina number dici ok vieni qui te ma che fa una pose Giojo una Giojo una pose Gioge una pose Gioge si ti prego disegnami mentre faccio una pose Gioge poi mi chiamo stelava 17 perché un giorno vedi un tiktok su come inventare un suo nome su internet e diceva di prendere lettera iniziale finale del mio nome vero salvatore se poi il mio cognome lo stesso però di cognome facevo la vecchia e poiché io mi sembrava troppo corto presi la uguale e vecchia va ci sta mentre 17 è il giorno in cui sono nato bella come storiella beh ci sta assolutamente quindi ragazzi secondo questa logica quale sarebbe il vostro soprannome ora sono curioso allora io se dovessi seguire questa logica mi sarei chiamato eh partivo male perché mi ha malesso quindi A e no aspetta aspetta smile ho sbagliato no ma smile ho sperato perché a questi sto facendo un malecane ma ragazzi qualcuno mi spiega perché a questi fa un malecane vi prego e quelli prima niente ah ciao Toreb vedo che come al solito ti ti distingui subito non appena riduciati eeeh te questo e te questo no io mi chiamerei a e eeeh a e l'h che brutto questo soprannome sarebbe io che mi hanno messo tu e ci ho creato come gioco la natura morta nell'arte ah prendi la L magari le poi come fai ognuno se posso chiedere rofo 15 ci sta lo sommerei ronfo 15 ronfo 15 ronfo 15 ronfo 15 bellissimo sbattato se dormi molto è anche rappresentativo c'ho la sveglia tra l'altro per domani Alexa che sveglia hai impostato? Alexa che sveglia c'è per domani? la sveglia è una sveglia ecco Alexa metti una sveglia per domani alle 8 del mattino la sveglia è impostata per domani agli attori bello 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 torri e ci fidiamo del fatto che tu sia tu ho bello Bello io mi sono chiamato coso bello che va Baro Coso perché mi ricordo un youtuber che vidi mezzavolta da piccolo che faceva come intro salva a tutti cosi e cosine o una cosa simile E quindi ecco coso poi bello che babbaro perché salva salva i un mio amico non capisco perché Perché un amico magico ha detto a Coso di diventare bello e di fare il kebabbaro ecco questa è la nuova storia canon del soprannome di Coso bello Ragazzi se lasciate fare il team 9 o quel che cazzo è quando scrivete e poi non potete pretendere che io ricostruisca il senso della frase No basta con i conti la travescia Sono chiamato Sansa perché sono un tiro e schifoso la svea alle 4 ma comunque mi alzo alle 7 particolari Perché è così il relatable questa cosa Allora niente volevo dire Hiro ti prego dimmi che puoi utilizzare l'abilità anche da fuori la battaglia quella per fare il vero nemico Insomma siamo entrati in battaglia prima di poter essere starlo Misteri su Twitch era già stato preso quindi ho dato azione alla mia creatività Ah per il nick dici ci sta Sono chiamato Toreb perché è l'unione del mio nome di quello di mia sorella Carino Perché salva il suo nome di telefono Best friend kebabbaro Ah ok No ma ormai la storia che ho detto io è canon Cosa mi spiace Non puoi sfuggire all'history rewriting di catena Che sembra una parola campata per aria lo so Ma lo facciamo davvero in git In vista di rewriting c'è il riscrivere una sequenza di azioni Facendo credere che siano avvenute in un altro modo Oppure che alcune non siano mai avvenute eccetera Che figo Non stanco intanto ormai non vado a scuola Beh è sabato Ah no però liceo questo Quindi si dorme ma niente comunque spero di non avere i conviti No perché dice questo Sansa? Stai proprio bene? No allora riposati caro Ragazzi riposatevi se non state troppo bene Ragazzi qualcuno mi sa consigliare per puro caso Un negozio di specialità milanesi Così prendo un regalo per i miei per Natale Non mi porto invece del nature per animista Dimmi te del nature come preferisci che ti chiami Per me è indifferente Cioè non è tipo io che sono Kare Tenshin o mazzo E infatti l'ho preparato poi in Katema Per me non c'è problema Se lava ma l'abbiamo provato a fare il controllo a rovescia Non ti ricordi? Qualche live ho fatto? Sto malissimo ma questo mi ha evitato in scienze Perché saltava l'interrogazione o cosa Che poi Qua c'è sullo sfondo anche l'iconografia del Del cantiere Bille diciamo Perché ce n'è uno di là Ma qualche riferimento al mondo reale? Non capisco bene tutti i collegamenti Tra Il mondo reale e il mondo immaginario Penso mista Ok perfetto Mi farà stranissimo per il mio cervello cambiare Fare questo cambio contesto come diremo in informatica Ma ci provo Ragazzi sapete che un cane non può mangiare una balena Questo perché il polo sud è grosso con gli animali Lì Sonic Grossi Prende il mondo di gioco più reale Seguitemi per altri conservati da Fortnite Ragazzi abbiamo perso Toreb quindi Ho 7 per lui No chiedevo se conoscevate i negozi a Milano Che vendono specialità locali di Di cibari e di Ma cerchiamo insieme No No non possiamo farlo in live Cosa bella Cioè lo posso fare ma Devo interrompere il gioco Però non posso farlo vedere 4334 No non vuoi sapere l'ora di Fortnite Mi prego Non morire maledetta Allora fai Un major Stai sopravvivendo il farlo Ma in teoria dovresti Allora se io faccio così E poi faccio Ecco forse mi Fan fact su Pokémon o Sonic Votate ragazzi Ok Non ha interessato i Kirby Ultimamente sta avendo enorme successo per la trama Kirby Tipo Kirby dovrebbe essere un mostro della distruzione totale Ma trovo e termina Se io ho visto che ci sono tutti i video Meme Che dicono Kirby gameplay Kirby roar Però l'unico a cui abbiamo mai giocato È stato quello per la Wii Kirby's Adventure Wii Carino ma non Ora mi ha Mi ha un po' stuzzicato Quello 3D che hanno in mente per l'anno prossimo O per tra due anni mi ricordo Però Un po' Non lo so Non mi ha mai detto tantissimo Cioè mi incuriosisce molto Però non abbastanza da dire Ok mi compro il gioco e lo provo Piuttosto magari mi guarderò una serie Esatto ragazzi Tema di fare un piccolo compito la prossima volta Circa Mad Moxie Cosa bello Ricordamelo alla fine della live Che te lo faccio Va bene Perché poi me ne scorso Se no Ragazzi Io c'ho Io c'ho da pensare Ai decoratori Di Python A A B Cell Di Java Per fare Bytecode Engineering La traduzione Da analogico A digitale E viceversa Con progetti Sistemi A sensore Alla rappresentazione Del mondo di gioco In grafo Per il Paffancina Per il Pathfinding Per intelligenza Artificiale Per videogiochi Insieme agli Altrimenti Genetici E Parliamo se Rucitare A impostare Il tempo E A git E alla tarpit Per Per svigruppo Potete chiedermi Di andare a cercare Andare a cercare cose Di ricordarmi Di andare a cercare cose Dovete scrivernele Poi alla fine Della live Quando mi vedete Ero rimasto Malissimo Del plot twist Finale Dove il tizio Che aiuti Per tutto il tempo Alla fine Ti Ti tradisce Tremendo Il matemox Ero diventato E' più importante Vedete il compito Di chimica E benedì Quello di arte Sì ma Cosa bello C'è Cazzo Non lo so Non dai fuoco A un banco Cioè Non è possibile Che tu C'abbia ogni giorno Un compito In classe Comunque Con il potere Per un nome Stai a fare E di equilibrio No E di equilibrio Ok Sto parlando biscotti alternativi Io dico che Ti andranno bene Tutti i compiti Di interrogazioni Della settimana Compiti di chimica E di arte Ecco Kirby's Return to Dreamland Adventure Wii Per la timeline E' uno dei primi giochi Ti ringrazio in trienne dopo Kirby Dreamland 2 No non mi parlate anche di timeline Ragazzi è impazzesco Il KFC Tu intendi il Ora dico una cazzata Intendi il ristorante Cioè la catena di fast food Scusa Sì Allora Non ci sono mai stato Ora che ho visto le immagini Ci voglio andare Cazzo Non posso mangiare Ci fa spazzatura Lo proverò Devo provare Chissà se ce n'è uno a Firenze Magari posso proporle ai miei amici Per andarci una sera Anzi ora mi ha messo il pallino Devo cercare se ce n'è uno a Firenze Ai gigli Eh si come c'è il rinno Si impossibile Incento volevo Mi hanno provi di ben trippendenti Io lo amo Maggiore una settimana fa Ne voglio ancora Azzalo Mi sa che è meglio starne lontano O te Ciao ragazzi È bello vederevi ancora Oh no No Madonna non mi fa passare Allora Con calma Cook Ma chi è quell'idiota Che ti si mette davanti Anzi se cosa In my way Nobody will came Will come Si vabbè Con lo sprite mega zoomato Sono forte quasi quanto vuoi adesso Era meglio che mi prendi sul serio Come ti pare Devo prendere sul serio Vuol dire che non devo avere Riguardi Magolor È bastardo Non so a quanto ti convenga Caro Esatto Diventa buono In più dovrebbe essere Un mago paradiso Perché l'oro Nella lingua di Mogolor Significa paradiso Ma va bene Lo so Ma questo passa il convento Inoltre potrei sapere Che ora finiamo oggi Perché vorrei Scriverti di sempre Ma Tra l'altro ho visto oggi Un video bellissimo E mi ha Mi ha illuminato Su un significato Di Cioè Destroy December Non lo sapevo Bellissimo Allora Io direi Sad poem Shift Ok Finiamo più o meno Verso le 23 Comunque cosa bella Ma se deve andare prima Vai tranquillo Magolor è uno dei personaggi Tantani di sua madre No Scusate Più Iconici della serie O più che lui La sua nave La lore Infatti appare In quasi tutti i giochi Dove avvencio lui Davvero Io di questo Non ho proprio Ricordi Comunque Nella mia prima luna Questo tizio Per farvi capire La considerazione Che avevo per lui Edvat Un sacco di sodio Questo Guardate ma tu ci vuoi bene O ci usi Per farci vedere La velocità E rotondare A fine mese Di avere abbastanza Budget Per conquistare il mondo Al massimo Posso arrotondare Per fare la spesa Cosa bello Cazzo Devo fare anche Il bonifico Al Capitario Dell'appartamento Ho da pagare L'affitto Bravo E me l'hai ricordato Ok No però ragazzi Pubblicità Io non le controllo Quindi Cioè almeno Non credo di avere Controllo Sulle pubblicità Buono Lo so Dovrei indagare Ma non c'ho voglia Run and gun Attacca Ecco Se hai mal di testa Se la Smetti di guardare La live E vai a letto Che di sicuro Non ti aiuta A sentire Tutti i rumori I suoni Le luci Eccetera Io ho mal di testa E' il mio punto debole Eh sì Va bene Non lo sopporto Bastardo Ok Che cazzo vuole 1050 Muori Ecco Non scusate Dddd è una roba Impossibile 31 divertimenti In un giorno Solo rocco No Non penso Quello di pokemon Certo Ce la può fare Sì Probabilmente Muori letteralmente Se provi a fare una roba Del genere Mi ricordo Mi ricordo La tornina Randi Ma l'avevo finita Di guardare Mentre ero al mare Ah ma lui è proprio morto Sì Mentre ero al mare Troppo annoiato Ve lo vedremo Avresti agito al finale Spero che ti abbia soddisfatto Allora E spero più che altro Che non ve la siate presa Non avevo capito Un cazzo Fundamentalmente Di 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 Tutta la storia di Mary Eccetera Però vi giuro Non pensavo Che potesse succedere Una roba del genere Sulle scale Che livello sono 29 Ancora un po' allora Non pensavo Potesse succedere Una roba del genere Cadendo da le scale Ma che basta E vadere le tasse A uso bello Non nemmeno per scherzo Devo scappare Dalla finanza Anche se purtroppo Kirby Star Alice È il gioco Più facile del mondo Questo perché All'interno Fece un esperimento Per far giocare Più giocatori Anche giocare I più inesperti Deciso di fare Il gioco facile Pensera Ma perché pare Al passato remoto Ti prego È uscito un anno fa Tipo Non mi puoi parlare Al passato remoto Di un gioco Uscito un anno fa Purtroppo a molti Non piacque Dai prego Ti prego Mi fatti In confusione Le onde cerebrali Cara Il mio amico ha detto E' direttamente No You Esatto Ho fatto la risata E' appena visto Tipo Bra Mary's Post Divertire Che poi mi ricordo Che Che ne commenterano tutti No però Aspetta Mi sa che Non è che Hai molto capito Io ero tipo No lo so Perché in realtà Ho fitto Registrar Mi sono poi informato Ma allora ste cose funzionano Che fino a un certo livello Non gli fai danno E da un livello in su Si Ma poi Non mi sono mai interrogato Su sta cosa Ma non dovrebbero avere Statistiche di attacco Di pesa E velocità I nostri eroi Ah no Si che cazzo dico Si che ce l'hanno Si 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 Non sono visibili qua Ma sono visibili Nel menu Si 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 Dimenticate tutto Dimenticate tutto Fun fact Galacta Knight E' un fratello di Fierge Infatti sono Entrambi i due eroi Della leggenda Della leggenda Proprio Prendi Allora vediamo un attimo Gli eroi Solamente che Per fatti Non ancora spiegati Galacta Knight E' impazzito E iniziano a spaccare I peneti Perché la mente Gli diceva così Kirby è rimasto normale Solo che non sa parlare Perché la sua navicella Si è schiantata su Popstar I peneti dove si svolgono Tutti i giochi Quando Kirby è ancora In fase di natura di vita Quindi non ha ancora Sviluppato bene Le corde vocali Porre Ma tutta sta roba Da dove si capisce Nei giochi No Merino 34 Non penso Una sera Ovvero mercoledì fa Allora Se lava Ora Non ti leggo più Non puoi dire Una sera Ovvero Mercoledì fa Guardai Il coso Di inserocalcare Non puoi parlare Al passato remoto Di mercoledì Non puoi parlare Al passato remoto Di mercoledì Cos'è il passato prossimo Lo scorso mercoledì Ho guardato Il coso Di inserocalcare Strappare Vabbè Si lungo i bordi Non ci ho capito niente Io All'inizio ho detto Ma non conosco Zerocalcare Quindi non lo vedrò Ne stanno parlando Troppo però Mi sa che devo Devo per forza Vedermelo Non so Non so se ci capirò molto Perché non ho mai seguito Zerocalcare Però dicono È tanto bello Eccetera Quindi Proverò a guardare A guardarvelo Avevo tanto tempo Per un libro Per leggere bene La wiki Eccetera No ok Va bene Però sono curioso Di sapere Questi Da dove hanno preso Queste informazioni Dai giochi Cioè Io sono comunque Un appassionato Di Di Lore Eccetera Soprattutto quelle Che nascondono Queste più grandi Dietro Insomma A loro spalle Cosa bello Dice vabbè Catapulino Non lo so io Ma le cose Le capisci comunque Ed è anche breve Ok Se mi dici così Sto più tranquillo Allora Ma non è un coso Quello di Zero Calcare Cioè Il coso Ce l'abbiamo noi Ed è bello E la sua Sarà una serie Immagino Non ho capito se Non è una serie Non è un film Questi 26 E 6 episodi Oppure sono 6 film Dai Devi schiantare Ah madonna Ma questo è triste Quindi c'è Oppure la difesa Alzata Fun fact Moon è un alleato Di Kiryu Ma chi Il Pokemon No io Non ti fò nulla Cosa bella Il calcio è proprio Una delle cose Da cui sono più distante Nella vita Ti potrei dire Fiorentina Perché l'inizio Ti fa per la Fiorentina Ma non è Ficciamente Potrebbe fregare Ragazzi Smettete di morire male Mi sa che moriamo Madonna È passato da normale A ecstatic Perché ha calciato bene La palla Oh mori Che cazzo fai No è cazzo È morto Game over Ma penso Mi faccia partire da qua Sì esatto Ti piace il coso Dei maschi In che senso Coso bello Io non sono Non è sessuabile Ma anche se fosse Non ci sarebbe nulla Di male Mi raccomando Ragazzi Però Ho detto Ho detto Stavo cercando Di farti un complimento Anzi Ho detto Che l'unico coso Qua presente Sei tu Ed è anche bello Cioè dai Almeno i complimenti Pidami Trama di Kirby Si capisce Insomma Veramente L'animazione Dettagli Tipo Galaternite Viene chiuso In un cristale E questo Non appare In alcuni giochi Dove invece c'è In più La trama Si dice Dalle descrizioni Vabbè Ragazzi Non ce la faccio Stare dietro Alla trama Di Kirby Adesso Va bene Esatto Amate Chi amate Anche perché Si fa sempre Molti Cioè Ci si fa sempre Molti scrupoli Con questa parola Eccetera Ma Tipo Io amo Mia madre Ok Le voglio tantissimo Bene Però Se lo se lo dici In giro Sembri Ah Ha detto Che amo Sua madre E queste Cazzate qui Che palle Ragazzi Sembra Non si possa Praticamente Dire nulla Che se provi A esprimere I tuoi sentimenti Allora Che schifo E invece no Esprimete Le cazzo Una delle cose Più belle Tra Di noi Essere umani È Condividere cose Con gli altri E volersi Bene Quindi perché Dobbiamo nascondere Questa roba No Cosa bello Non penso Di essere diventato Salvini Sinceramente Succedesse Ragazzi Non lo so Chiudiamo Baracca e Burattini E ciao E questo Si chiama Conigli Io esprimo I sentimenti Spense I personaggi Infatti Lei ha tanti traumi Scherzo Beh però È comunque Un modo Per esprimirli Quindi va bene Anche perché Poi a tenersi Tutto dentro Si esplode Ragazzi E ve lo dice Uno che è esploso No Toreb Non leggo Il tuo commento Parlo Dell'amore reale Tra persone reali Che si toccano Parlano e respirano Capito E adesso Vai a baciare Tua madre Subito Forza Toreb Vai Vai Dalle un bacio E dille che le vuoi bene Cazzo Baci subito Baci subito Beh Spero Non mi abbiano sentito I coinquilini Adesso L'italiano Ci ho messo Marx De società Basata Sul capitalismo E consumismo Poi faccio Sabere Com'è Andata Cos'ho Bello Chiudere La gente In cantina È un modo Per dimostrare Affetto No Cos'ho Bello Ti direi Di no No Cos'ho Bello Travisa sempre Tutto Allora Toreb Districa questo noto Come fai a dire Tu ami le vecchie Non le vecchie E Pedofilo Pedofilo è quando ami I bambini Se ti rimballo le vecchie Cioè Sa che Ha fatto Un po' Confusione Io voglio bene A mia madre Ma lei un giorno Mi dice La mia vita È una merda E tu sei la mia vita Ma Tattomi No No Scusa Però L'hai scritto In un modo E mi ha fatto morire Vabbè Diciamo che abbiamo Tutti le nostre Giornate No Oh ma a che livello Siamo arrivati qui Possiamo andare Livello 30 Facciamo il 31 E poi basta Quindi le devo lasciarle andare Però Ha uno strano odore Non si può Cosa bello Ti prego Chiudi questa timeline Perché non so Quanto ti convenga Lasciarla aperta Che devo provare Ah c'era le mucche Devo provare Devo vedere Quanta esperienza Mi danno queste E poi provare A vedere le mucche Invece No le mucche Sì insomma La fattoria delle mucche Ma Cos'erano Gli squid Zad Gli weed squid Gli squid game Game squid Insomma I nemici Autoreonia Meglio che piangere Sempre su Vedeci sempre Solo sarà Non lo dico Per cattiveria Sì esatto Andiamo da squid game Lo squid game Esatto Sì perché C'è la fattoria Con tutti i maghi Squid E non ho visto Niente esperienza Mazzato Ma porca puttana Vabbè Sarà 149 Devo sapere Sì esatto Sarà 1400 Sì esatto Ficca 168 Seicento Ok Quindi due In media Sì Più meno Ci sono Da lontano Da qualche parte Devo pur trovare La carne A dare alle mucche Per poi fare i kebab Loro mi aiutano Tanto Tanto Proprio sono i mati demon In blu Ma io si ve ne fanno Va bene Cos'ho bello Ragazzi Tra tutti qua Non c'è nemmeno Normale Comunque E questa cosa È fantastica Poi dite Non devo mangiare Per Schif Eh Poi dite Non devo mangiare schifezze Io mangio Per soffocare i miei traumi Se lava Io lo capisco Ma non lo puoi fare Attraverso il cibo Cioè Devi trovare altre valvole Di sfogo Perché sennò Poi va 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 a finire male Cioè Prova piuttosto E cazzo ne so A fare A fare esercizi È comunque un modo Per sfogarsi Perché butti via lo stress Però ti fai bene Un giorno vi racconto Fesce la mia vecchia classe La mia vecchia classe elementare Medi No Medi Libri Mi hanno poggiato Sì ma Vabbè Lasciamo stare Diciamo che so cosa si prova Però se la va Però L'importante È tenere È tenere duro E proseguire Per la propria strada Nel senso di Non ho visto Il punto di esperienza Nel senso di Squizzard Ecco Di Nel senso che Se hai un'idea tua Su qualunque cosa Mantienila E fregatene Di quello che ti dicono Gli altri A cui non gli interessa Diciamo Migliorare Aiutarti a migliorare Chiaramente Facendo live Non mi riesci Di fare questi discorsi In maniera seria Il punto è Ignora Chi non ti vuole aiutare Chi non prendete E prosegui Per la tua strada Fun fact Chi non può provare Il sentimento dell'odio Questo perché rappresenta La parte benevola Dell'unifers Infatti anche nei giochi Si arrabbia Con i boss Sono minori Ma li perdona sempre L'esempio Wispy Wolves In ogni caso Si scontra con Kimmy Ma Kimmy Non gli ha mai fatto nulla Se non scontrigerlo Ecco Minchia 2000 Cosa 2400 Buona ragazzi Io mi so che starò Qua per un po' Abbiamo tutti i neuroni morti ormai Però va bene Io per svolgarmi i disegni Aiuto a volte Mi svolgo quello più Creando personaggi e storie A volte vorrei solo Abbracciare i miei personaggi Lo capisco Lo capisco Vediamoli se ne sono andati Dice cosa bella Però Hanno messo i miei righetti stanchi E ne sa che Eh vabbè Ormai è andata così Cosa bella Non c'è molto Va a fare Dai Ma parello e gira Sì 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 Qua mi sa che sono respawnati Tra l'altro Questi bastardi A volte esagero Ma al soffro del faccio Grazie mille per esserti preoccupato Tutti i miei fratelli maggiore Non mi avevo insomma Grazie Ciao Ok Ora bisogna decidere Quale timeline scegliere Io pazzo criminale O io sensei della cultura Sensei della cultura Cosa bella Mai pazzo criminale La cultura è meglio Soprattutto quella cultura Anche perché se poi ti 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 Acculturi In tale ambito Ci puoi consigliare Eh Questa non è una cosa da poco Per la community È vero È vero C'ha ragione Cosa bella Senava Se vuoi ordinare cibo Ordina Dalla sua kebaberia Cosa bella Mi garberebbe tanto un giorno Fare una live in cui ceniamo Tutti insieme Cioè almeno io ceno E mi porto un kebab Comprato qua da qualche parte Però ho paura che Che schifo è sta roba Che lascerei un to dappertutto E non sarebbe come il top Ragazzi Ieri sera un tizio mi ha dato La polverina rosa E mi ha detto che era speciale E ci sono solo pochi pezzi Così per Non essere questo Ho fatto i biscotti Con la polverina E li ho legarati A tutta la mia classe E gli ho detto Di mangiare il po' pranzo Non vedrai sentire Il ringraziamento domani Voi ragazzi Vi vedo in degli universi Incredibile Sì ho sentito Che Squid Game È doppiato in italiano Ma mia madre mi ha fatto morire Perché mi ha raccontato No ho finito di vedere Squid Game Ma non ho capito come mai Tutti gli episodi Sono in lingua originale Ma l'ultimo L'hanno fatto in italiano E ho detto No mi sa che hai sbagliato qualcosa Mamma Perché è uscito Il doppiaggio in italiano Nel giorno in cui Lei ha visto l'ultimo episodio Non aveva capito questa cosa Quindi non ha messo Il doppiaggio originale Dalle impostazioni E l'ha visto in italiano Fantastico Fun fact C'è un gruppo Whatsapp In cui sto da un anno E lì sono senza cultura Nel dojo cultura Insomma sono una persona In nomata in quel gruppo Dai Io mi sapevo Non mi sa ragazzi Che facciamo 300 milioni di miliardi di livelli Penso che mi dispiace Se quella parte Mi sapevo Madonna Edmund Macmillan Maledetto Che fa i teaser Con questo cazzo Di Mugenics Che prima o poi dovrà uscire E quando uscirà ragazzi Se sarò ancora su youtube Insomma online Potrei farci una serie Perché ha detto Che è mezzo Isaac Mezzo Fire Emblem Mezzo Pokémon Mezzo un'altra roba Un po' di tutto E sembra figo Perché c'è gente che guarda E si frisce degli NTR Non lo so Cosa è bello Io C'è proprio Una cosa che non concepisco Però Il mondo c'è C'è gente a cui piace Di tutto e di più Quindi Soprattutto quelli proprio sgravi In cui c'è il tipo Che guarda il tutto Infatti l'indocicultura È barbino Il tag Bene Mi fa piacere Io ho dei gruppi famigli Che senso Soprattutto se sei di Napoli Ogni giorno Nascono Parenti che non conosci Va bene Torre B Come al solito Dici cose Molto neutre Akeno Rul34 Cos'è bello Di chi Akeno parli? Perché se parli Di quella Di X Cool D per D La conosco Era uno dei miei Personaggi preferiti Anche se Se non mi ricordo male La mia preferita Era Xenobia Quella unica Quelli blu Cioè Akeno è proprio Vabbè Easy mode Xenobia invece Era quella Che mi aveva Catturato di più Guardate per qualche motivo Mi sono immaginato Che Che per darmi le informazioni Per la copertina Vieni da me Io sono il mio nascondiglio Che ho nelle mie storie Che è una mega casa Sull'albero Ficato E sì Mi sono immaginato Tutta una scena figa E sì Io vorrei vivere su un albero E saltare Tra i rami come Tarzan Mentre il mondo La testa è più spenzialatamente Ti dico che avere Una casa sull'albero È sempre stato Nella mia infanzia Un mio sogno Che non ho mai realizzato Se non andando A casa dei Di amici O ai compleanni Addirittura Ai compleanni Degli amici Di mia sorella Quindi pensate Che giorno Tu fai Però c'era Un posto In cui c'era Una casa sull'albero Ma non mi ricordo Cosa bello Allora A parte che Ti seno Non sono tanto diversi A Keno E Xenobia Ok Però non c'è Non è solo quello Ok È un po' Il tutto Capito E mi ricordo Che Xenobia Mi garbava di più Anche per carattere Proprio Cos'ho bello Oddio Che ha confuso No vabbè Non posso leggerlo Oddio Che gaffa Fantastico Oddio E muoio Fammi uscire Io segretamente Lavoro anche per Katemus Quindi faccio Dobbio gioco Cavolo Sono fregato Ok Il mio sangue Mi ritorna Restare bollendo Però lo posso dire Sono del sud Esatto E quella è la filosofia Questa vuoi Come ammazzare Keno Anche perché Sei praticamente L'ultimo Quindi Forse il penultimo Insomma Cook Kiss my cook Voglio la maglietta Kiss my cook Cazzo La voglio Certo Te avrebbero voluto Proprio questo Ma qui diceva bene Ci risi solo Per conquistare il mondo Why not Both Guarda Kill la kill E immaginati Che io sia La versione maschile Di Kiryu In Satsuki E voi siate I membri Del comitato disciplinare Quattro deva E Vediamo Allora Proxy sarebbe La ragazza Con i capelli rosa Te potresti essere Gamagori Ira Cerca il Gamagori Ira La cosa bella Dimmi se non te Mi summa il personaggio Dead nature È quello con la spada Non mi ricordo Come si chiama Mi manca Quello tecnologico Però non c'è nessuno Di tecnologico Mi sa Tra voi Eh Quello rimane In disparte Per ora Ehi zi Are you fucking Stupid or what? Non devo farci qualcosa Spero Sì È un swordman Yeah Ah sei uno swordman Cieco Del nature O meglio Che si toglie la vista Perché dice che Quella Lo ha Ciecato E reso superbo E dopo essersi tolto La vista da solo Come punizione Per questo Ci vede meglio Perché percepisce L'universo Dice Ma perfetto A posto Ehm Dov'è Questo No niente Allora basta Penso ci sia Molto altro A fare Non sono molto Sicuri Sicure Queste mucche Della loro identità Va bene 4.500 Io che sono Ve lo dici Stasera vengo Soltato Tuo Un po' Asso Chiric Allora Te Toreb Sei Te Toreb Sei il fratello Di Mako Il fratellino Quello che va a rubare Tutto quanto E c'è la mamma Che lo riprende sempre Quello lì Che dice Non si ruba Maledetto Ah scusa mamma Scusa Che ti piaccia o meno Questo è il tuo role Hai fatto la domanda E hai buttato la risposta Mi spiace Sibbiosi del bestiario Veste divina Senketsuo Don't lose your way Troppo bella Alzo e lost Io userei il potere Della cultura Al posto di pugna Anche se le mani Le usano entrambi Va benissimo Non c'è problema Sono Gamma Gorilla Del comitato disciplinare E oggi vi insegnerò Un po' Un po' di disciplina Ma comankanshuku Cosa stai facendo Normalmente Questo comportamento Comporterebbe Un'espulsione immediata Ma come vedi Siamo troppo Indaffarati Con la Gita di distruzione Non ho fatto un lavoro Di adattamento Uh eccoci Magico ragazzi Attraversiamo il ponte Oh non ho sbagliato Ovvero The nature Poi dopo Possiamo tornare Da Giù Nella 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 Nell'autostrada Insomma Qua al servito Li trovi nel letto Con un bel coltello Vabbè Me lo darà Per tagliare una torta Avete detto voi Che un essere buono Non può Provare cattiveria Quindi sto tranquillo Ok perfetto Segnerò la disciplina Della cultura Forza Di milfe No Cosa bella Di milfe Sì Quell'altro No Per favore Ma guarda questo posto Ci sono un sacco di piante in giro Sì vabbè Basili sarebbe garbato Vabbè Sinno qua E' quando non si ricordano Più nemmeno Che farci abbia Basili Praticamente Madonna E' tremenda Sta cosa Cioè Non ricordarsi addirittura Una persona E' difficile ricordare Perché mi manca Perché qua si scordano Di Basili Ragazzi ma scusate Mi potete dire Quando cambiano le cose Perché fino ad ora Mi sembra un po' Troppo simile Alla Route normale Sicuro che non stia sbagliando qualcosa Più avanti Ok Dopo Humphrey Ah proprio alla fine fine Ok Ah già perché poi c'è tutta la cosa Del black space Oddio Non è che Ah no però mi avete detto Devo raccogliere le lettere Quindi devo fare un sacco di backtracking Poi mi sa Mi serviranno a guida Per trovarle tutte Bambino piccolo Più mistettono Uguale Vicky shot E c'è il doccio cultura Approvo Approvo Yeah ma ci sono cose belle Ma solo perché Per un qualche Motivo mistico Le milfo Comunque le ragazze Più formose Le disegnano solo Nelle opere Dove ci sono anche I bambini Io non So perché Però Vabbè Se è quello il prezzo Da pagare Per vedere Dei disegni Lo accetto L'oggio cultura È parte della lore Certo cosa bello Va bene È parte della lore Ma sto andando In la direzione giusta Perché mi sto muovendo Un po' a caso I tuoi ricordi Non sono gratuiti Per ottenere Un ricordo Un altro Deve essere Lasciato cadere Diciamo E tanto Prima o poi Tutti i ricordi Spariscano Questo hai già notato La maledizione Del deeper well Non tutte le lettere Sono disponibili ora Ok Dovrei andare più avanti Finché so che posso Tornare indietro Sto tranquillo Diciamo Life gem Aspetta un attimo Seguo la filosofia di vita Dell'estica Anzi Questo è cacchio E se toccasse a te E se toccasse solo a te Continua per la tua strada Sognatore Se è l'unico Se è l'unico che può farlo Che può farlo E' l'unico 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 che può farlo Minus siamo visto E' egoista Sognare per così tanto a lungo quando ci sono delle persone che ti aspettano. Decay. Cioè decadimento? Il tempo si muoverà per sempre in avanti e prima o poi la verità diventerà chiara. Lo sai bene questo. Non è così sognatore. Il tizio con il ferro all'ucinito. Scusa ma io sono muto da qua. Penso sì. Cazzo non c'è a perdermi. Col tempo ciò che è importante cambierà. Ma devi scegliere che cosa tenere, che cosa tenere e che cosa allontanare. Non tutti hanno quella scelta. E qua stiamo facendo la scelta sbagliata perché stiamo allontanando dei nostri amici e quant'altro. Madonna ste facce. Vabbè. O te? Null. Gli umani sono creature legate, destinate. I tuoi limiti sono ciò che ti definisce. Che cosa ti rende umano? Eh vabbè. I uomini si domandano chi siamo noi? Che cos'è la vita? Che cos'è lo spazio? E poi muoiono senza conoscere le risposte. È questo il destino degli uomini. Il paesaggio di un tempo con un po' di quiete e un po' di speranza. Gli uomini quando vengono calpestati alla fine si alzano i piedi. La speranza che stringono nelle loro mani è un incentivo all'evoluzione e sprigiona una forza enorme con la quale gli uomini combattono. E così vengono a contatto con la disperazione. Basta. Non disperare, cosa bella. C'è sempre tempo per fare tutto. Cazzo sta facendo il discorso incredibile, serio, fantastico. E poi arriva lui. Ciò mai a toccare un paio di tetti? Beh teoricamente l'avresti forse già fatto se conti quello di tua madre. Sicuramente c'ho un'infanzia dovrebbe. Il sole brillava più luccico, più lucente, quando lei era qui. Ok sì, bene. Qua ci sono i tre miliardi di... ma come gli è venuto in mente di fare i corridoi diagonali? Io questa cosa non lo capisco. Questo è il genere di cose a cui penso di andare a dormire. Vabbè ci sta. Ma mi fai... oh grazie. Chi siamo noi? Perché siamo? Dove siamo? Salvatore sul letto a mangiare arancini cucinati da tua madre. Smettere di pensare. Pensare fa male. No non è vero. Pensare è molto importante, ragazzi. In parte di tutto. Lo posso fare una doccia? No, per Diana. E invece... non è normale. La mia coscienza scriva. Passi un arancino. Michele vorrei uno anch'io. Sì però stai calmo. Mi devo mettere la crema per le mani. Però ce l'ho tutte scrupolate. mi devo mettere la crema per le mani. Pensare al mio essere. Dai eh. Vabbè. Dicono qualcosa ma non capisco cosa. Un... 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 Un hallowed barden. È stato piazzato... È stato piazzato sopra di te. Un... Un fardello... Un hallowed... Allora... No... Un hallowed... Non so come tradurlo sinceramente. Cioè è tipo proprio... Che non ti meritavi. Cioè è tipo proprio... Che non ti meritavi. Enorme. Tu hai il potere di cambiare il futuro. Che cosa farai sognatori? Che cosa farai? Che cosa farai? Vediamo come è evocativa sta sezione. Void. Ma può darsi che questo sia... Cioè stiamo prendendo... Cioè se vogliamo vedere questo mondo come una creazione... Penso che sia corretto della mente di Pippo... Stiamo di fatto andando in una parte inesplorata della sua coscienza. Quindi più o meno nell'inconscio. Anche perché le forme sono sempre meno definite. Le colonne sonore non... Cioè... Non ha in mente la musica per l'ambientazione. I personaggi si chiamano Null, Void, eccetera... Mute. Che tra l'altro gli fanno domande spinose. Non... Ah oggi ho trovato un biscotto per strada. Cioè non... Non ci sono più quei tipi di dialoghi. È lui che piano piano cerca di fare i conti con la realtà dei fatti. Quanto andrei lontano per salvare un amico? E poi questi affari che... Sono dei minimeri praticamente. A che livello su se siamo arrivati? 32. E se eravamo già arrivati a 32? 36. Così. Care, ho rischio di fartelo leggere. Lo sai che visto il dojo cultura... Ho deciso di assegnare a ogni tag un tipo di magia. Per esempio il tag Loli o Shotacon permette di creare le portali verso la dimensione di... Alcalolida. Qui si possono far emergere delle catene... O se sia abbastanza potenti tipo me e un demone blu. Con cui si possono trascere i propri nemici in questa dimensione. In cui è impossibile fare il ritorno. Madonna. E per il tag Milfa che superpoteri ci sono? Sentiamo. Ok. Eccolo Alfred. Ok. No, se hai mal di testa se la vai a letto. Davvero. Toreb che si inventa city. Va bene. Toreb. Un giorno inizierai a guardare Steven Universe. Assolutamente non guardare la sigla senza ripeto prima stagione. Perché è più sparo che questo è ultimo. E vabbè. Allora non è... Non è fatto molto bene mi sa. Ma perché all'improvviso Steven Universe? Mi ha perso. Katema sei più potente. Se non mostrarsi mi preoccupa. Scusate plebaia. Mi stavo divertendo a vedere gli appunti di Katema. Ma guarda che cavolo di roba è questa. Ma pensa davvero di diventare più intelligente di me studiando queste cavolate sulle ampiezze, sulle frequenze massime, sul teorema del campionamento, sulla quantizzazione e l'errore di quantizzazione. Io veramente non ci posso credere. Cioè... Ragazzi dovete... Dovete... Dovete stimolarlo a studiare qualcosa di più complesso per poter competere con la mia geniale mente. Ovviamente. Ovviamente. Perché niente di tutto questo è capace di arrivare al mio livello. Naturalmente. Ma... State ancora giocando a questo giochino del cavolo. Ma... Come vi permettete. Dovete cambiare gioco ogni tanto. Non potete sempre giocare a questo con i ragazzi in color bastello. Che... Cos'è questo? Vanno davanti alla balena. Pinocchio. Che cavolo è? No, se la vacca te ma non guarderà mai Steven Universe. Io lo impedirò io. Ha 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 ha. Le tue roli non sconfiggiano le nostre milfa. Ha ha. Staremo a vedere. Con il peso delle loro tette cadranno in ermi a terra. Mentre le mie roli le calpesteranno una dopo l'altra. Ha ha ha. No, aspetta. Non permetterti mai più di dire una schifezza del genere. Non si toccano le tette delle milf. Sono sacre. Katai Mus, tu non sei nessuno rispetto a quello che arriverà a 60 no. Soghigno come sta? Orco 2. Sta bene, ti ringrazio. In realtà io ho trovato anche una piccola dimora. All'interno di questa scatola che contiene delle cubine. E all'interno delle suddette cubine, anzi auricolari. All'interno delle suddette auricolari c'è la casetta di Soghigno. Ecco qua. Allora. Va bene ragazzi. No, ora non lo rinvoco. E basta. Però penso che gli voglia bene. Penso che gli voglia bene. Dov'è il sweet heart? Me la son magnata. Adesso la sto digerendo. Inizia a scipare Katai Mus e Soghigno. Allora penso proprio che Soghigno, che Sibon. Che però Katai Mus sia etero come me. Quindi puoi fare tipo una roba che tipo pucca. Che Soghigno gli va dietro e lui invece. No, no. Devi essere un mio servo e basta. E lui si calpesta. Che poi è un ragno quindi. Perfetto. Minchia il ragno che si vuole far calpestare. Perfetto. Ah I'm afraid. Eccoci qui. Per i tag Milf si può fare invecchiare abbastanza una persona da renderla inerme. Però per ogni tag c'è un rischio. Tipo Milf ti si può ritorgere contro. Poi Lodi se ci fai. Se ti fai sopraffare. Il Demone Prut ti spedisce ad Alcalodi. Ok. Toreb. Però non è possibile che tu scrivi solo un menti che non posso leggere. Vabbè. La faccia di Amphrey è enorme. Si va bene. Comunque sono le 22 e 27 vedo. Quindi facciamo un quarto d'ora. E poi stacchiamo. Ciao Amphrey. Ma è stato in Ajar? No. L'unica Ajar che conosco è quella di Antibirth. Che c'è la host. Giorni from Ajar to the sky. Ma tanto è bella dell'aostra. Il diavolo ha sempre pensato che sarebbe una figata se fosse un ossessore. Però perché con soghini non commi? Vabbè. La sezione musicale la faccio io. Va bene Toreb. Com'è produrre coiti? Vabbè ragazzi. Stasera proprio. Vabbè. Mi sa che dobbiamo chiudere la live prima proprio. Stasera. E se no è pazzile. Allora quelle sono tutte chiuse. Allora l'altra volta era andato prima a sinistra credo. Lei è prima a destra. Quindi cambio. Ma no c'erano i puzzle. Oddio. Allora. Con calma. Mike. Oddio ma sembra Noel. Oh ciao Marina. Sei qua per rubare le mie cose di nuovo? No non questa volta. Beh non questa volta. Ho preparato qualcosa di extra speciale per te oggi. Come sai bene sono una persona molto indaffarata. Ma... Beh tu sei mia sorella. Ti garantirò accesso alla mia stanza se sei capace di risolvere il mio piccolo regalo. Spero di rivederti ancora tesoro. Spero di rivederti ancora tesoro. Se sei ancora viva. Si intende. Direttore. tenendo. Oh. Oh. Ehm. Oh. Ah no. Stanno preparando una bella trazione Ma poi perché difficolti hard scusami So cosa stai pensando Stai pensando a te stesso Questo posto è strano Per fare un picnic Lascia e ti dica Se vorrebbe fare il picnic Sono in posti in mare Come in campeggio Oppure nelle foreste Ma dovrei divertimento nel farlo E se voglio studiare l'anatomia di una batina Mentre studio Eh Espandi la tua mente Va bene Allora vediamo di provare quella cosa con Miro Ma Sansa c'è ancora o è sparito? E ciao Bellissimo O forse preferisci What's cooking? Good looking Bellissimo Ah ci abbiamo ancora fatto quella di Hector Figurati Non commento perché se no mi banno nel canale probabilmente Anzi no fammi Voglio avere il picnic Ragazzi non ci possiamo rilassare proprio adesso Disse lei mentre faceva una pirouette Abbiamo un puzzle da risolvere Ah si vabbè Dovremo fare quello che il cuore ci dice Grazie Mary posso sempre contare su di te Beh Mr. Egg di Delta Non se porti cioccolatino in stanza invece ad Alphys Si dice una cosa In più di da 5 dollari Ok Qua c'è ancora il Mr. Egg non lo so Non voglio premere 10 volte il tasto di interazione Ah ma perché ho premuto quello rosso Ecco perché quello hard Vabbè In teoria l'ho già fatto Ah vabbè Allora se non altro essendo la seconda run Non penso di dover interagire con ogni essere vivente Della vita proprio Oddio Warmbot Vediamo quanto male gli fa Perché è felice ora? Madonna Mila Voglia Milenovecento addirittura Ok Vediamo un po' Vabbè tanto non si aprono mai la finestra di me trans No aspetta Solo Kimmyo quindi è la sorpresina Kinder sotto Sorpresina Kinder Vabbè è Natale Da come me lo stai scrivendo mi ricorda un personaggio di Kill la Kill per l'appunto Che è il professore Vedete qua Che guida il gruppo ribelle della Nudist Beach Che sembra una cosa tirata per l'accapata per aria Ma in realtà per come sta andando l'anime sembra avere senso Mia mamma perché ci sono ospite per le giocatrine di quell'icuore Oggi mi ubriaco Ma non li mangiare se lava Vabbè Se lava sta Cioè la sua vita sta andando allo sbando La sua vita alimentare Mi sono chignotò un po' E' il pippo di soldiglio Ok E' il pippo di soldiglio Sì, mi conviene affrontare il tutto. Ok, quindi, boh, a destra. Non so se la strada giusta oppure no. Gli squat sul pipo. Ah, solo su giugno sai il suo sesso. Ok, perfetto, il suo gender. Allora, devo far rivivere, a parte non sarà tornata in vita. Ehm, quindi, cook. Mmm. Che devo farci qua? Mica me lo ricordo. No. Ehm, fammi riprovare un po' qua. Ehm, ah, ok. Ok. Oddio, ok. Blu, verde, rosso, bianco. E quale dovrei tagliare? Sì, cosa bella, io sono vaccinato. Quale dovrei tagliare? Vabbè, ragazzi, siete completamente impazziti, vero, stasera. Ma il percorso è uno solo e se non lo seguo... Ciao, Neil. Ah, forse devo tagliare lì in ordine. Blu, verde, rosso, bianco. Perfetto. Ok. Allora, blu. Mario. Come io. Allora. Ehm. Perfetto. Ve lo trovermo. Perfetto. Perché erano tre, ohioio Minchia, se quello di prima era hard e questo è medium Lo easy sarà una cazzata Ehm, ok Non la conosco Questo secondo di quante sono le Permutazioni, direi sì, delle possibili lettere Il tiratore va a essere quello più difficile Sapete che se mettete la crucia sulla testa con l'uncino sulla fronte E la parte dietro sulla nuca Oltre a diventare un uniforme, la vostra testa si inclina verso l'alto in quasi autonomia Non ho capito Scusa non cadeva per come ho fatto impazzire la chat Non ti preoccupare L'importante è che tu tenga conto della lezione imparata per le volte successive Mailbox Ah, oddio, sì Ah, però non stanno a sentire È una persona gentile Che se ne frega Road person Proprio come Molly Ecco Non posso crederci che abbia funzionato Vabbè Non direi mai ship in chat Zatto, non ci piacciono le navi Ok Direi finiamo questo mini dungeon Qua del laboratorio E poi E poi Chiudiamo Ora vediamo quanto ci mettiamo di preciso Ma insomma Water mimic Bastardo Maledetti mimic Alla fascia dell'incacchio Puoi morire pliz Grazie Buona 4.000 Mi dispiace non averlo dato Anche a che le altre le esperienze Non che ci fosse molto che potessi fare Ma insomma Ok, lettera Non direi mai ship in chat alle 3 di notte Franky apico mi tomare con sex Giusto per fare più visualizzazioni Questa è la V Che non è mai nella vita una lettera Ma tra l'altro è da un po' che non apre il gioco dell'impeccato Fammi vedere Vediamo come si apriva Ok Ah 15 su 26 Mica è molto meglio di quanto pensassi Però Ah tra l'altro io non ci sono ancora andato ok Ok Mamma mia Tremendo Ok Senti zi mi son rotto Ah Vabbè Cazzo ma siete fissati con i cum di Katemus ragazzi Impazzuti totalmente Allora proviamo qua Ok Avevo tenuto dei compiti A chi li posso dare? A Hiro forse Sì 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 è figo è figo è figo Tra l'altro dovete pensare a cosa potrei mangiare domani Proviamo a pranzo mi faccio il pesce A cena mi faccio la pizza Domenica a pranzo mi muovo il pesce Così non va male E domenica Allora posso fare O le uova Oppure hamburger Oppure bastoncini No però mangio il pesce già a pranzo Quindi bastoncino Ok Non dare mai sull'olifanz di Katemus alle 3 di notte DJ Retto mi Vabbè Ragazzi ma perché Cioè siamo passati da Kirby Al kum di Katemus Io Perché Perché Com'è successo Che devo mangiare il pesce Per forza cosa bello Serve per diventare più intelligenti P P F Tanto pesce ragazzi Bisogna mangiare tanto pesce Se non siete intolleranti chiaramente No io da quando ho cominciato a stare qua a Milano Ho cominciato a mangiare un sacco Oh scitteroni Non è qua che dovevo andare Sì però sei un bastardo Cioè No 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 Eh vabbè ho capito Ma a parte qua sopra c'era qualcosa Cosa c'era? Niente Ok Solita faccina Ma il sushi lo puoi anche mangiare Però basta non mangiare sempre soltanto il sushi Una volta ogni Una volta ogni Una volta ogni due mesi Poi dipende da quanto ne mangi chiaramente Se vai a fare l'olio che in it Ciao No ma dai tu avrebbe incredibile vero? Chi l'avrebbe mai detto? Ma mi date sta cazzo di password Guarda Che prima è il sogginio cosa c'è nel vaso Ma è Ah It's a good thing I checked before writing this M Or else I would have almost written another B Allora aspetta fammi ragionare E poi basta E' una buona cosa che vi ho controllato prima di scrivere questa M Altrimenti avrei scritto un'altra B C'è il cane pazzo Ah ma ci hanno la letta Ma va cacare Ma va cacare Ok boom Ok boom Ok boom Ma perché? Perché dove? Perché non li vedo mai arrivare? Sì boom è la password Però perché perché O B O M Però lui ti dice Guarda che ho sbagliato Me lo mette qua Però lui ti dice Meno male che ho controllato prima di scrivere questa M Altrimenti avrei scritto un'altra B Sarebbe stato piuttosto bruttina come cosa eh Ragazzi niente La sessualità che avete portato in chat Sta perbadendo anche il gioco a quanto pare Esatto Ma E che succede se Aspetta un attimo No non posso perché sono vabbè Che cazzo Che cazzo Volevo provare a mettere boob Poi per non pagare una multa una volta ci fece Porta il mio pitbull Perché avevo due mesi Ora è enorme E quando eravamo sul punto di scoppiare il cane Fece il buco nero per noi Ah per il sushi dici Ok Ok Vabbè si Pioggia di hashtag in cose strane Messo la sketch page Perfetto Allora vado a salvare E andiamo a vederla E andiamo a vederla Save Ok Allora 48.999 No Per uno Che fastidio Vai Qua intanto alzo un po' il riscaldamento perché fa freschi Anche se non sembra Allora Qualche minuto è? 58 No Fermo un attimo Allora Ci vuole la musichetta Delta bono Ah Ecco qua Ecco qua Per vedere un piccolo compito Allora si Va bene Eh Andiamo a vedere Scusa The Nature Ma è cosa bella Se no non mi da la tregua Quindi No Ok Cosa vedo nei miei occhi Va bene Va bene Moxie Carino Però Non lo so Non mi sembra proprio la cosa per me Ah ma te No giusto Troppi tatuaggi per Maya A me i tatuaggi non mi garbano Ah che schifo Mamma mia No perché mi faccio cazze robe Ho visto una roba bruttissima Allora la migliore è Akeno chiaramente Però da un sacco non la vedo fammi Eh si Akeno zi Per forza Vabbè 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 Allora No ho sbagliato Non è qua è qua Ok Allora ci siamo Proprietà Ecco qui Ecco qui Qua non mi è venuto bene oggi Allora Katemu School Madonna Bello Sus 36 Bellissimo cazzo Va poi serissimo Incazzato nero Sto fan E questo è sto ghigno che Che lo vende è tipo Ah con la bava alla bocca Bellino Io ho le gote Fantastico Calpesto mi Please È diventato canon Non ci posso credere Da buttarli a casa Fantastico Soghigno Bellissimo Boy a spettacolo In my way Vabbè fantastico The nature Fantastico Hai preso proprio Mi garba un sacco Come riesci a prendere Sempre Gli spezzoni più Peculiari della live Diciamo Fantastico Qui diciamo Katemu un pochino Ha preso il sopravvento Ganzo quel caffè con i Con i pantaloni lunghi Katemu un po triste Info sulla copertina Ehi care No vabbè Stupendo Stupendo Adoro Si cosa bello C'è il guaceno Certo che mi voglio bene Cosa bello Quello azzurro sono io No no esatto Avevo Avevo inteso È un giaccone figo Sì è anche parecchio lungo Non so come tu faccia Non inciamparci Dico io se avessi una roba del genere Mi mi Faccio due passi indietro E muoio Probabilmente casco Allora io ovviamente come sempre Me lo salvo Perché questi sono Doni preziosi Ecco qua Va bene Oh guarda è comparso Va bene Lasciamo stare Allora ragazzi Ragazzi Allora ragazzi Niente Io ho registrato Vero sì per fortuna D'accordo La live di stasera Può finire qua Abbiamo fatto abbastanza Le due ore sono passate Ora mi vado A lavare i denti E a mettere l'apparecchio E vi do la buonanotte ragazzi Qua è tutto Del vostro catema Noi ci vediamo Nella prossima parte Di Omori Dove cosa riusciamo a fare Spero Dalla stessa culo Da tutto Se non occuro ci vorranno ancora due parti Ma insomma Ci siamo dai Peace Però ovviamente Non metto il mouse Dove dovrebbe stare Quindi Ciao Ciao Ciao